Il comune di Acate, al netto dei problemi che assillano da tempo la popolazione, anche quest'anno, non ha inteso trascurare la frazione di Marina, proponendo iniziative di tutto il rispetto. Alcune attività sono state già esploatate a luglio ormai alle spalle, ma l'estate acatese 2017 è pronta ad entrare nel vivo, caratterizzando tutta agosto, fino alla chiusura in programma sabato 26. Quindi, oggi e domani, intanto, in programma la Sagra delle Focacce, allettata da intrattenimenti musicali e balli. Sabato e domenica 12, invece, la Sagra del Pesce, con annessa serata di intrattenimento. La vigilia e il giorno di ferragosto saranno, invece, caratterizzati dalla Sagra degli Arancini, mentre il giovedì successivo tornerà di scena il cinema all'aperto. Sabato 19 agosto, ultima Sagra in programma con il leggelato a fare la parte del Leone, mentre domenica 20 e mercoledì 23, due serate danzanti, prima di arrivare a sabato 26, con la chiusura delle manifestazioni e l'appuntamento alla prossima estera. Grazie a tutti.